Allora io volevo fa l'attore, lo ripeterò sempre in questi podcast, ma non volevo fa i musical. Eppure oggi parliamo di un'attrice che ha avuto l'apice, ha raggiunto l'apice della sua carriera nel 2017 proprio per l'Oscar come miglior interprete femminile per La La Land, che è un musical a fianco di Ryan Gosling. Allora io non sono uno che apprezza i musical, non riesco. Mi piace molto la prosa, la prosa sperimentale, soprattutto quella che va a incidere su diversi campi, ma la canzone è anche inserita all'interno di spettacoli di prosa, ma un'opera interamente dedicata alle canzoni, io non riesco a sopportarla. Raramente riesco ad apprezzare questo genere, questo stile che passa dal vaudeville e arriva fino al musical, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare e diamo a Emma Stone ciò che è di Emma Stone. E lei è la protagonista di oggi, nata in Arizona il 6 novembre 1988, quindi un'attrice statunitense. E il primo ricordo che io odio Emma Stone non appartiene magari al ruolo di MJ negli The Amazing Spider-Man, tra l'altro lei sarà anche compagna, fidanzata dunque di Andrew Garfield, che è il secondo Spider-Man della storia. precedentemente abbiamo avuto Tobey Maguire, attualmente abbiamo Tom Holland. Chissà, magari si rincontreranno, ci sono dei rumors che fanno presagire questo, ma il primo ruolo dove io vedo perfettamente Emma Stone immersa nelle fondamenta del personaggio è Birdman. e possiamo vedere come questo lavoro emotivo che lei faccia in Birdman possa seguire, diciamo così, i traumi della sua vita. Perché adesso andiamo un po' a vedere cosa è stata la vita di Emma Stone, perché da bambina aveva le cosiddette coliche del neonato, quindi molto spesso il pianto le faceva compagnia. Di conseguenza, avendo avuto le cosiddette coliche del neonato, le sue corde vocali hanno sviluppato dei calli, diciamo c'era una determinata difficoltà per poter intraprendere una carriera musicale. Poi vincerà addirittura l'Oscar qualche anno fa, proprio nel 2017, quattro anni fa. Soffriva di attacchi di paunico anche da bambina che le hanno causato, diciamo, una sorta di declino, un declino sociale. È stata sottoposta a una terapia, ma ha affermato che è stato il teatro a farla rivivere, a farla rinascere. E ragazzi, il teatro è sempre la parte più importante. Si può rinascere attraverso il teatro e quanto ci manca in questo momento, dal punto di vista emotivo, sentimentale. Emozioni e sentimenti sono due cose che si affinano, ma non sono la stessa cosa. E soprattutto dal punto di vista sociale. È rivalsa, è rinascita, è rinascita personale. Ha iniziato a studiare poi canto anche da piccola e fin da bambina voleva fare l'attrice. Il suo percorso parte soprattutto per un avvicinamento agli sketch comici. Poi spostò la sua attenzione al teatro musicale. Le coliche del neonato, diciamo così, l'avevano influenzata, ma fino a un certo punto lei perseguì e inseguì il suo sogno poi fino a raggiungerlo. Ha studiato in diverse scuole, ma preparò una presentazione, soprattutto quando frequentò l'Oxavier College Preparatory, una scuola superiore cattolica femminile, ma abbandonò dopo un semestre per diventare attrice e preparò una presentazione, come dicevamo in PowerPoint, per i suoi genitori intitolata Project Hollywood. E lì cercò di convincerli per poter lasciare, diciamo, l'Arizona e trasferirsi in California e intraprendere così la carriera di attrice. Nel gennaio 2004 si trasferì definitivamente insieme alla madre in un appartamento a LA, Los Angeles. Ed è lì, nel 2004, che inizia la sua carriera. La possiamo vedere e i ricordi magari non sono chiari, perché è apparsa in Lucky Lou di Louis C.K., comico irriverente, famosissimo, soprattutto nel contesto americano, ma anche in Italia è arrivato qualcosa della sua stand-up comedy, e per chi appartiene alla mia generazione ma ha avuto buon occhio, la ricorderà in Zack e Cody al Grand Hotel, ma per pochissimi episodi. È nel dramma d'azione poi Drive, sempre nel 2004. Quindi questi sono i suoi debutti televisivi fino a questo momento, ma il debutto cinematografico è nel 2007, con Sucks Bad, Trementi sopra il pelo, che sinceramente non ho visto, ma poi nel 2008 interpreterà in The Rocket il batterista tristanudo, con la regia di Peter Cattaneo, un ruolo che comincerà pian pianino a farla notare. Famosa anche per aver fatto un film demenziale che è Benvenuti a Zombieland, con la regia di Ruben Flesher. E poi Crazy Amici di Letto, ovviamente, Friends with Benefit, la traduzione originale, e poi Crazy Stupid Love, che soprattutto fa parte di quella narrativa rosa che attira tantissimo pubblico. Poi l'abbiamo vista, come abbiamo detto, in The Amazing Spider-Man, in The Amazing Spider-Man 2. La relazione che ha avuto anche con Andrew Garfield è il grande successo, secondo me arriva prima in Magic in the Moonlight, che porta la regia di Woody Allen, ovviamente. Allora, questo è un film di Woody Allen che non apprezzo. Io apprezzo più i primi periodi di Woody Allen dove c'è questo psicodramma che viene attuato attraverso la comicità. È lì la genialità della sceneggiatura di Woody Allen. Se la trasportiamo poi ad alcuni film che ha fatto, per esempio nei giorni contemporanei, come può essere il 2014, magari ci possiamo trovare irrisolti a livello di trama, a livello di sceneggiatura. Però, ovviamente, lavorare con Woody Allen è sicuramente un grande traguardo, e un nuovo inizio, perché avere nel curriculum Woody Allen è sicuramente tantissimo. Il grande successo lo vediamo, lo conosce poi definitivamente con La La Land. L'Oscar viene vinto nel 2017, la regia di Damien Chazelle, ma il film va in produzione e distribuzione nel 2016. Famosa la sua interpretazione, anche nella favorita di Yorgos Lantimos. E poi Zombieland torna a fare questo film demenziale col medesimo regista nel 2019. Nel 2021, come abbiamo detto all'inizio, è attualmente sulla bocca di tutti, perché prenderà le redini di Crudelia Demon. Questo è un prequel, non parliamo della carica di 101, quindi staremo a vedere un po' cosa combinerà, se essenzialmente dal trailer che abbiamo visto sembra promettere bene. Ma sicuramente la carica emotiva migliore di Emma Stone la troviamo, senza alcun dubbio, presente in Birdman, proprio perché quei traumi, degli attacchi di panico, della desolazione magari di una bambina, vengono trasportati e inseriti, incanalati, in maniera perfetta in quella interpretazione. A fianco, lei recita spesso con Michael Keaton e con Edward Norton, che sicuramente non vengono annullati, ma diciamo che ogni personaggio, ogni attore, concede il proprio spazio, il giusto spazio, all'attore che ha di fianco. Quindi essenzialmente è un grande, un grande lavoro, quello che ha fatto Emma Stone, che la possiamo ritrovare con Ycruz come doppiatrice, Ycruz 2, che è un film del 2020, uscito nelle piattaforme streaming con l'impossibilità di essere visto al cinema, purtroppo mi viene da dire, e poi anche doppiatrice di un videogioco, che è Sleeping Dogs, che sinceramente non conosco, è prodottrice di una miniserie TV che prende il nome di Maniac, del 2018, dove anche interpreta un personaggio, quindi doppio ruolo. È attualmente fidanzata, sposata, era fidanzata, adesso è sposata, con il regista e sceneggiatore del Saturday Night Live, di cui tra il 2010 e il 2015 ha fatto quattro puntate come ospite. Questa è essenzialmente Emma Stone, una caratterizzazione importante dei suoi personaggi, infatti sono curiosissimo di vedere la sua crudelia demon, e sono curiosissimo di vedere cosa riuscirà a dare. A livello di impatto, è un'attrice che ha un viso particolare, un tipo di recitazione molto, molto interessante, è vera, vivida, in ogni sua interpretazione. Quindi non posso che consigliarvi di vedere qualunque film con Emma Stone, magari non i musical, ma fatelo per me, non per lei, perché sicuramente ha strameritato quell'Oscar, e sicuramente ne avrebbe meritato un altro, proprio per Birdman, la mia interpretazione preferita di Emma Stone.